Il conto alla rovescia per la vendita della Casa Divina Provvidenza è cominciato, anche se c'è chi quel conteggio vorrebbe fosse sospeso o prorogato. E l'amministrazione comunale di Biceglie, ma anche le sindacali, a chiedere al commissario straordinario della Casa Divina Provvidenza di sospendere o prorogare i termini dell'invito a manifestare interesse per l'acquisto dell'azienda. Lo dicono, anzi lo mettono per iscritto in un documento illustrato nel corso del tavolo tecnico riunito nell'auditorium Santa Croce. L'Unione è quasi obbligata, proprio all'indomani della pubblicazione, il 21 settembre scorso, dell'invito a manifestare interesse per l'acquisto della Casa Divina Provvidenza. Il timore è che la struttura sanitaria, fondata da Don Pasquale Uva, finisca in mano ai privati e per evitare che ciò accada si ingrossa il fronte di chi chiede un intervento pubblico. Ad aprire la strada ad un interesse della Regione Puglia è il sindaco di Biceglie, Francesco Spina. A cogliere questo suggerimento sono anche i consiglieri regionali della BAT, Sabino Zinni e Luggero Mennea, tra i presenti all'incontro di venerdì pomeriggio. Quella della Casa Divina Provvidenza viene ritenuta un'occasione unica per la Regione Puglia, perché non si disperde il patrimonio sanitario e per certi versi vengano ammortizzati i debiti milionari che l'ente ha nei confronti dello Stato. Lo deve fare attraverso un'azione importante, sia verso il commissario, promuovendo una sospensione dell'invito che è stato presentato per l'alienazione. L'amministratore straordinario dia più tempo per la manifestazione di interesse, perché dove sta scritto che la manifestazione di interesse deve essere solo rivolta al privato? Io credo che bisogna dare un po' di tempo in più anche al pubblico di poter eventualmente valutare l'opportunità di un acquisto della struttura. Oggi non può essere consegnata a uno sbrindellamento a dei privati che non si sa bene che cosa ne potranno fare, che cosa ne vorranno fare. Io credo che la Regione Puglia e lo Stato italiano non debbano farsi scappare un'occasione del genere. Stiamo parlando di un'azienda storica, di un'azienda che ha un'esperienza lunga e straordinaria nel campo dell'attività ospedaliera e assistenziale, socioassistenziale e che rappresenta anche una delle più importanti aziende del territorio pugliese.